Naturalmente Bella e La Saponaria vi invitano all'evento Salute e Prevenzione per un Corpo Sano, in cui verrà presentato il nuovo approccio al benessere, che unisce medicina integrata, naturopatia e discipline bionaturali. Durante la serata verranno proposte tematiche e tecniche di prevenzione olistiche e scientifiche per il benessere dell'individuo. Ti aspettiamo giovedì 2 febbraio in via dei Trasporti 3, dalle 19 alle 20 e 30. La partecipazione è gratuita.